Buongiorno a tutti, iniziamo questa conferenza stampa prima di tutto ringraziando l'onorevole Quartapelle che ci ha permesso di avere quest'aula per la conferenza stampa e che ci è stata vicina, ci ha aiutato molto per questa nostra iniziativa. È un'iniziativa di Amica, l'Associazione Medici Italiani Contraccezione Aborto, ed è un'iniziativa che nasce, Amica nasce proprio come associazione di medici che operano nel campo della salute e dei diritti riproduttivi. Questa nostra iniziativa vuole richiamare l'attenzione e l'intervento dei ministri di competenza sulla questione dell'accreditamento di una scuola di specializzazione, come sapete, ed è una scuola di specializzazione che a nostro avviso fornisce ai futuri ginecologi che la frequentano una formazione parziale, ispirata a principi ideologici e non di evidenza e che sulla base proprio di questi principi viola la legge 194. Sto parlando della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia del campus biomedico di Roma, alla quale si accede, come per tutte le scuole di specializzazione, dal 2014 sulla base di una graduatoria che si fa dopo aver superato un concorso nazionale. l'assegnazione alle scuole di specializzazione dei vari vincitori avviene sulla base di questa graduatoria nazionale. La scuola di specializzazione del campus biomedico di Roma, la scuola di ostetricia e ginecologia, basa ed ispira il suo programma formativo a principi che sono definiti proprio nella carta delle finalità dell'università campus biomedico. In particolare io credo di dover sottolineare quanto si legge agli articoli 10 ed 11 della carta delle finalità. L'articolo 10 dice il personale docente e non docente, gli studenti e i frequentatori dell'università considerano l'aborto procurato e la cosiddetta eutanasia come crimini in base alla legge naturale. Per tale motivo si avvarranno del diritto all'obiezione di coscienza previsto dall'articolo 9 della legge 22 maggio numero 194. Si ritiene inoltre inaccettabile l'uso della diagnostica prenatale con fini di interruzione della gravidanza. E qui voglio aprire una parentesi perché anche se non fa parte del nostro appello io credo che sottolineare che si affronta un altro punto importante qui nella carta delle finalità che riguarda l'etica della professione. Per cui un ginecologo dovrebbe negare la diagnostica prenatale ad una donna che volesse considerare l'opzione di interrompere una gravidanza qualora si presentasse una patologia fetale. Quindi dicevamo l'articolo 10 dice si ritiene inaccettabile l'uso della diagnostica prenatale con fini di interruzione della gravidanza ed ogni pratica, ricerca o sperimentazione che implichi la produzione, manipolazione o distruzione di embrioni. E poi l'articolo 11 che dice il personale docente e non docente, gli studenti e i frequentatori dell'università riconoscono che la procreazione umana dipende da leggi scritte dal creatore nell'essere stesso dell'uomo e della donna, stiamo parlando di un'università. I criteri morali che devono guidare l'atto medico in questo campo si deducono dalla dignità della persona, dal significato e dalle finalità della sessualità umana. Tutti considerano pertanto inaccettabili interventi quali la sterilizzazione diretta e la fecondazione artificiale. Ora voi sapete che dal 1978 in Italia l'aborto volontario è un atto medico di competenza del ginecologo negli ambiti ovviamente previsti dalla legge 194. È dunque grave che una scuola accreditata dallo Stato che deve formare gli specialisti ginecologi definisca crimine l'interruzione volontaria della gravidanza, ignorando peraltro l'evidenza. La criminalizzazione dell'aborto, noi lo sappiamo bene, non ha comportato assolutamente una diminuzione dei tassi di abortività, anzi costringe le donne a pratiche illegali, spesso eseguite da personale non qualificato e in contesti sanitari inadeguati. Quindi contesti sanitari e pratiche che mettono in grave pericolo la salute e la vita delle donne. Non è un'opinione questa, ce lo dice l'organizzazione, ce lo dice intanto una letteratura corposissima, ma in particolare ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Schutmacher Institute che hanno condotto uno studio che analizza il fenomeno degli aborti volontari nei vari paesi del mondo in relazione alle loro legislature in un arco di tempo estremamente ampio, cioè in 25 anni, dal 1990 al 2014. Secondo questo studio, dal 1990 al 2014, i tassi di abortività e la mortalità legata all'aborto si sono ridotti notevolmente nei paesi sviluppati nei quali l'aborto è in legale. Siamo passati da 46 a 27 aborti ogni mille donne in età fertile ogni anno, mentre gli stessi tassi sono rimasti sostanzialmente invariati nei paesi in via di sviluppo dove l'aborto è illegale o dove comunque l'accesso all'aborto è fortemente ristretto, fortemente limitato. Per cui si è passati da 39 a 37 aborti ogni mille donne in età fertile ogni anno. In particolare si sottolinea il dato dei paesi africani dove per la gran parte gli aborti sono illegali e dove il tasso di abortività è rimasto praticamente invariato, cioè da 33 a 34 in 25 anni. Ignorare questi dati e non trarne le dovute conseguenze scientifiche ma anche etiche è un crimine. E l'imposizione dell'obiezione di coscienza a personale docente e non docente, come dicono gli articoli 10 ed 11, a studenti e frequentatori dell'università costituisce una violazione dell'articolo 9 della legge 194. Una violazione grave perché l'obiezione di coscienza, ci ricorda proprio la legge, è una scelta personale e non può essere fatta perché imposta se si vuole ottenere un diploma di studio. Ma io credo c'è un altro punto importante che deve essere sottolineato e cioè che la legge 194 non esonera affatto chi abbia sollevato l'obiezione di coscienza dall'intervenire in condizioni nelle quali la vita della donna sia in pericolo. Dunque anche gli obiettori più che convinti, più oltransisti, non dovrebbero essere esonerati dalla formazione sull'interruzione volontaria della gravidanza che in alcuni casi è un dovere etico che venga prospettata alla donna come opzione terapeutica. non siamo contro il campus biomedico anche se non ne condividiamo l'impostazione. Riteniamo però che questa impostazione che ovviamente è più che legittima nella sanità privata non debba viziare la formazione dei futuri ginecologi. Sappiamo bene che il campus biomedico di Roma non è solo e che in altre università anche statali eludono questi temi. Nel 2016 la nostra associazione Amica svolse un'indagine tra gli specializzanti in ostetricia ginecologia dei tre poli universitari statali di Roma con la finalità proprio di valutare le conoscenze fornite agli specializzanti in tema di legge 194 e interruzione volontaria della gravidanza. L'indagine che presentammo al congresso della FIAPAC, la Federazione Internazionale degli Operatori di Contraccezione e Aborto che si tenne a Lisbona nel 2016, evidenziò una carenza formativa gravissima. Solo il 15,8% degli specializzanti aveva fatto un training clinico sull'IVG del primo trimestre, ancora meno lo aveva fatto sull'IVG del secondo trimestre ed oltre il 60% aveva conoscenze insufficienti o errate della legge 194. Sulla base di queste considerazioni e di queste preoccupazioni, amica rivolge quindi un appello ai ministri di competenza, Roberto Speranza, ministro della salute e Gaetano Manfredi, ministro dell'università e della ricerca. A entrambi chiediamo di verificare la completezza dei programmi di studio della scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia del campus biomedico di Roma in tema di interruzione volontaria della gravidanza e contraccezione e di revocarne l'accreditamento qualora tali insegnamenti non fossero espletati. Al ministro dell'università e della ricerca chiediamo di definire nel dettaglio i criteri e i requisiti fondamentali per l'accreditamento, compresi gli argomenti che devono essere comunque trattati perché sono fondamentali per la formazione dei ginecologi. In particolare le scuole di specializzazione in ostetricia e ginecologia riteniamo non possano escludere l'interruzione volontaria della gravidanza, la contraccezione, la fecondazione medicalmente assistita dai loro programmi. Al ministro della salute chiediamo di agire nei confronti del campus biomedico per la piena applicazione delle norme in vigore in Italia che prevedono il rispetto della legge non solo della prima parte dell'articolo 9 della legge 194 ma della legge 194 in toto che non ammette l'imposizione dell'obiezione di coscienza. Al ministro della salute, al ministro dell'università e della ricerca, ai presidenti di regione chiediamo di vigilare sull'attuazione dell'articolo 15 della legge 194 del 1978 che impegna le università, le regioni, le aziende ospedaliere a promuovere la formazione, non solo degli specializzanti ma anche di chi già è specialista e di tutto il personale sanitario, su procreazione cosciente e responsabile, cito testualmente la legge, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto, sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna, meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. A questo appello hanno aderito oltre a tantissime associazioni, tantissime personalità del mondo scientifico, accademico, della cultura, associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica e l'UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Non è un caso, perché proprio i temi che noi trattiamo oggi in questo nostro appello sono elementi fondanti per queste due associazioni, perché quello di cui parliamo oggi riguarda certo il rispetto della legge 194, riguarda la laicità dello Stato che noi riteniamo fondamentale per assicurare una formazione medica basata sull'evidenza scientifica e dunque in definitiva per assicurare a tutte e a tutti i cittadini del nostro Paese il diritto alla salute. Grazie. Grazie Anna, non ti sei presentata, lo faccio retrospettivamente. Anna Pompili, ginecologa dell'ASL Roma 1 e San Giovanni di Roma, è cofondatrice insieme ad altri colleghi ginecologhi, tra cui Patrizia Facco che è qui con noi questa mattina ed io stessa, che sono Mirella Parachini, fondatrice di questa associazione che ha lo scopo, se vogliamo, di rimettere nella giusta casella tematiche come quelle dell'aborto. La giusta casella è quella della salute, della salute riproduttiva e quindi in quantità di tecnici noi riteniamo che la formazione dei futuri ginecologi italiani debba assolutamente prevedere la conoscenza sia teorica sia su piano pratico, clinico, delle procedure sia abortive ma di contraccezione. Permettetemi comunque di ringraziare innanzitutto l'onorevole Elia Quartapelle che ci ospita in questa conferenza stampa, parlamentare del Partito Democratico che ovviamente ci può interrompere quando vuole per interloquire. Permettetemi anche di ringraziare i primissimi ad aver aderito all'appello lanciato dall'associazione Coscioni e dall'associazione Amica che sono appunto l'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, è qui presente con noi il segretario dell'associazione Filomena Gallo che nonostante molte contingenze questa mattina ce l'ha fatta stare con noi ma vorrei ringraziare anche come tu Anna già hai fatto l'associazione dell'unione degli atei e degli agnotici razionalisti che sentiremo tra poco. Così come volevo ringraziare Andrea Filippi della funzione pubblica CGL, medici e dirigenti del sistema sanitario nazionale che ci farà sentire le ragioni di questa adesione. Io credo che l'aspetto trasversale che unisce degli operatori del settore a personalità politiche del mondo della scienza, del mondo della cultura, del mondo della bioetica abbia un valore enorme. Faccio un inciso subito per far capire quanto in Italia è necessario tutto questo. Parlando di contraccezione esiste un barometro europeo che misura il livello di attenzione alla contraccezione nei vari paesi europei. L'ultimo rapporto che riguarda anche l'Italia fa collocare l'Italia prima solo della Lettonia e della Romania. Questi dati sono dati puntuali perché sono dati che si riferiscono ad indicatori precisi che vengono studiate e analizzati. Tra questi indicatori, quindi sono le scelte politiche e le strategie di applicazione in questo campo, la sensibilizzazione attraverso campagne di informazione, l'educazione sessuale nelle scuole, ma fra questi punti c'è l'istruzione e la formazione degli operatori sanitari e dei fornitori di servizi. Quindi è esplicitamente fatta attenzione la formazione. Allora come volete che se quello che regola la procreazione umana sono le leggi scritte dal creatore, come volete che questo barometro, quindi questo parametro che misura la formazione dei nostri specialisti non sia in qualche modo inficiata. Io concordo con Anna e spero che nella stampa passi bene questo messaggio che noi non abbiamo nulla contro il campus biomedico. Questo non è il nostro problema. Il nostro problema è il nostro Ministro della Salute e il nostro Ministro dell'Università e della Ricerca che accreditano questa università per dare patenti di diplomi di specializzazione in ostetricia e ginecologia. E a questo punto permettetemi anche, Anna ci ha appena letto i due articoli che per noi, quando li abbiamo tra l'altro scoperti, ci hanno un po' fatto saltare sulla sedia, che sono l'articolo 10 e 11 della cosiddetta carta delle finalità. Tutto questo è presente nel dossier che abbiamo raccolto e che sta nelle cartelline che sono a disposizione della stampa e di chi volesse averla. Tutto questo in qualche modo contrasta con un'altra normativa che regola l'Ateneo del campus biomedico, che è il codice etico dell'Università campus biomedico di Roma, il quale dice, nei principi generali, rispetto a leggi e regolamenti, l'Università ha come principio imprescindibile il rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Ateneo e l'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui essa opera. Va da sé che l'articolo della carta delle finalità 10 e 11 che ci ha appena letto Anna Pompili contrasta con le leggi dello Stato italiano, in particolare con la legge 194. Ma anche io vorrei estendere a tutti gli impegni a livello internazionale assunti dall'Italia, in ambito per esempio Nazioni Unite, laddove l'Italia ha sottoscritto gli impegni per gli obiettivi del millennio per il 2030, tra cui figura con enorme importanza per i motivi di cui ci ha parlato Anna, la salute riproduttiva a tutti gli effetti. Nella salute riproduttiva ovviamente si collocano sia interruzione volontaria di gravidanza e sia contraccezione. Ma io vorrei sottolineare quello che ha già detto Anna, perché l'obiezione di coscienza non esonera il personale medico dal intervenire qualora ci sia rischio di pericolo per la vita della donna. Quindi il medico che fa fronte ad una situazione clinica in cui c'è il rischio per la vita della paziente deve essere in grado di fare un'interruzione di gravidanza. Quindi è una questione sanitaria, clinica, di salute pubblica e noi facciamo riferimento a questo concetto di salute riproduttiva che è sottoscritto dallo Stato italiano. Nulla osti per chi vuole andare in una scuola di specializzazione che prevede che le leggi sulla procreazione umana vengano dettate dal creatore ma non non è accettabile che questo titolo accademico italiano venga dispensato da questo tipo di chiarissima tra l'altro tanto di cappello al campus biomedico che mette in modo molto trasparente le sue finalità e i suoi principi. quindi è lo Stato italiano che deve fare un po' i conti con questa cosa ed è il motivo per cui Amica insieme a queste importanti adesioni si rivolge ai ministri affinché vigilino sulla garanzia che questo esercizio del diritto della salute riproduttiva venga esercitato. C'è una cosa importante che ha detto Anna e cioè che questo appello noi lo facciamo anche per tutte le università anche le cosiddette università statali in cui è stato constatato che in moltissimi casi l'insegnamento clinico pratico e teorico sulla questione interruzione volontaria di gravidanza ma anche contraccezione è estremamente carente e anche su questo l'eurobarometro di cui vi parlavo punta il dito sull'Italia. Ancora vorrei sottolineare alcune cose. La questione della salute riproduttiva attiene alla questione della mortalità. Conviene ritornare su questo argomento perché noi abbiamo fatto passi da giganti sappiamo grazie a quali forze politiche e a quali movimenti nel nostro paese le donne che hanno oggi 60 anni sono nate quando i diritti sessuali e riproduttivi e la possibilità di scegliere erano limitati. Ci siamo abituati un po' a godere poi di questi diritti. Ci sono state delle tappe essenziali fra cui la legge 194 ma io credo che non possiamo dimenticare che nel mondo a livello globale esistono ancora morti legati all'aborto illegale e quindi insicuro. L'8-11% queste sono le ultime statistiche delle morti materne sono legati all'aborto. significa un numero che varia da 22.800 a 31.000 vite che sono sacrificate sull'altare di queste leggi che non ci sono, di queste non leggi. Tutto il mondo è globale questo. gli aborti nel mondo sono circa stimati ad essere 55 milioni.7 all'anno naturalmente. Questa era la stima degli anni studiati dal 2010 al 2014. Di questa enorme quantità di aborti, quindi anche capire che il fenomeno è talmente grande che il vietarlo non incide nel contingentarlo, anzi è dimostrato il contrario, come ha detto Anna, nei paesi in cui è legale emerge e quindi diventa più controllabile. Di questi 55.700 milioni di aborti all'anno, 30,6 milioni sono safe, sono aborti al sicuro. È molto difficile, io lo dico sempre, tradurre safe e unsafe, perché sicuro, non sicuro. Insomma, quindi il 54.9, quindi il 55% di questi aborti nel mondo avvengono in condizioni di sicurezza, ma il 30.7%, quindi un terzo, che corrispondono a 17 milioni, sono less safe, adesso vediamo che cosa significa, e 8 milioni, corrispondenti a 14.4%, sono least safe. Che vuol dire questo? Che nella distinzione tradizionale che in letteratura troviamo, nella distinzione tra safe e unsafe abortion, negli ultimi anni si è fatto un'ulteriore statistica e disamina del fenomeno degli unsafe abortion, dividendoli, come vi dicevo, in less safe abortion, che sarebbe meno sicuro, cioè con fattori di rischio moderato. Quindi safe abortion sono gli aborti senza fattori di rischio, i less safe abortion sono aborti meno sicuri, quindi in cui ci sono dei fattori di rischio moderati, e i least safe abortion sono quelli con sicurezza minima e quindi con grave rischio. Ovviamente questi con grave rischio sono quelli legati innanzitutto, parola di WHO, di OMS, quindi sto parlando di stime ufficiali, al primo punto il least safe, quindi quelli proprio in condizioni di pericolo e di grave rischio sono quelli esercitati da persone prive della necessaria capacità. Noi siamo sufficientemente poco giovani per ricordarci le mammane nel nostro paese. Questo significa che stiamo parlando di un problema di salute e non stiamo parlando di altro. Quindi io credo che la stampa e il movimento che intendiamo veramente lanciare affinché ci seguano in questo appello ai ministri recepiscano proprio questa questione. Stiamo parlando di una materia squisitamente medica. L'ultimo punto, prima di sentire anche chi ha subito appoggiato e aderito a questa nostra iniziativa, riguarda l'obiezione di coscienza, e cioè la violazione davvero dell'articolo 9 della legge 194 che abbiamo estrapolato e che trovate nella cartellina di cui sopra, laddove l'articolo 9 fa decadere automaticamente l'obiezione di coscienza, come dicevo prima, nel caso di pericolo per la salute e per la vita della paziente e della donna. Quindi una skillness, una capacità, una formazione non si può prescindere nella nostra professione di ginecologi specialisti che si dà una preparazione su questo fronte. Allora, Anna, sei tu che dai la parola ai nostri... Allora, grazie Mirella. Do la parola ad Adele Orioli, che è la responsabile delle iniziative legali dell'UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Sì, ne approfitto per ringraziare anche l'Onorevole Moroni che ci ha appena raggiunto, quindi grazie. Ricomincio invece dai ringraziamenti doverosi per l'ospitalità all'Onorevole e ad Amica che ci ha coinvolto, in particolare ovviamente ad Anna Pompili, che come diceva prima non è un caso effettivamente se l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha raccolto immediatamente questo appello e questo invito a portare alla conoscenza di questo possibile pericolo, di questo possibile attentato ulteriore a una legge 194 che è sicuramente perfettibile ma che va al momento difesa in tutti i modi. Dicevo non è un caso, ovviamente non è un caso perché noi dal 1986 siamo un'associazione di promozione sociale che ovviamente tra i suoi scopi fondativi ha quella della difesa della laicità dello Stato ma soprattutto ha la difesa del diritto umano fondamentale di autodeterminazione, soprattutto nelle materie sessuali e riproduttive ovviamente. E come diritto umano fondamentale non è sempre un caso se infatti la nostra ultima campagna proprio l'anno scorso si è chiamata Non affidarti al caso ed è un invito rivolto alle persone a chiedere al proprio medico se pratica una qualche forma di obiezione di coscienza. Obiezione di coscienza che tra l'altro entra prepotentemente nel dibattito anche odierno per quanto riguarda anche le questioni del fine vita, quindi non solo per quanto riguarda la tutela della salute sessuale e riproduttiva ma anche per, possiamo dire, una problematica ancora di più universale visto che effettivamente il fine vita riguarda davvero ognuno di noi. Ecco, la nostra campagna Non affidarti al caso ricordo è stata censurata dal Comune di Genova e attualmente contro questa censura siamo pendenti con un ricorso alla Corte Europea dei diritti umani fondamentali. Non è un caso appunto che noi siamo qui, non è un caso che ci sia stata questa censura, non è un caso che se non ci fosse stato l'impegno appunto di Amica e delle associazioni e delle firme che poi si sono unite, questa scempio e questa violazione della normativa sarebbe probabilmente passata sotto silenzio. D'altronde si è parlato di barometro europeo, ecco, a livello di barometro internazionale per quella classifica che ci riguarda ad esempio come non credenti, quindi come cittadini italiani non credenti, la classifica internazionale ci vede 158esimi tra il Burkina Faso e lo Sri Lanka proprio per quanto riguarda la libertà di coscienza dei cittadini non credenti e tra i criteri che contribuiscono a questa nostra pessima posizione c'è proprio tutta la legislazione e tutti i tortuosi cammini che le nostre legislazioni, i nostri diritti fanno per quanto riguarda la materia appunto sessuale e di salute riproduttiva. La legge 194, l'interruzione di gravidanza è un esempio ma in tempi più recenti pensiamo all'assurdo e tortuoso percorso che ha avuto da noi la pillola del giorno dopo che non solo viene ancora ad alcuni indefinita abortiva e non contraccettiva ma che addirittura ha dato luogo all'invenzione estemporanea di un'obiezione di coscienza dei farmacisti assolutamente non prevista da alcuna normativa. Pensiamo all'ancor di più tortuoso e mi corregano le professioniste del settore sostanzialmente ancora poco conosciuto il percorso appunto della pillola abortiva vera e propria c'è la RU486 che è da noi arrivata con un ritardo enorme che stenta comunque ad essere utilizzata preferendo invece comunque ricovero. E non ultimo pensiamo anche al ricorso, fa particolarmente piacere infatti che ci sia anche qui la CGL perché il ricorso promosso nel 2016 al Consiglio di Stato proprio dalla CGL è proprio a proposito della discriminazione evidente che subiscono i lavoratori del comparto sanitario i lavoratori non obiettori. Sappiamo infatti che quella che a nostro parere doveva essere semplicemente una normativa transitoria cioè la stessa obiezione di coscienza doveva servire assolutamente doverosamente a tutelare gli operatori sanitari già incardinati nel settore pubblico eventualmente anche gli studenti già incardinati nelle scuole di medicina ecco quella che a nostro parere 42 anni dopo ha molto meno senso di esistere d'altronde nessuno può arruolarsi nell'esercito rifiutando di toccare un'arma e d'altronde anche avrei voluto fare il corraziere ma non sono un uomo di due metri sono una donna di un metro e mezzo eppure non è un grande scandalo ecco non urla la discriminazione per questo ecco eppure 42 anni dopo quella che doveva essere una semplicemente norma transitoria e che de plano dovrebbe semplicemente funzionare che permettendo la legge italiana nel comparto pubblico di effettuare aborti un ginecologo del comparto pubblico debba essere preparato e debba essere disponibili anche ad effettuare questo tipo di interventi bene è diventata invece la regola l'obiezione di coscienza sembra essere diventata la linea guida non l'eccezione alla regola ma la linea guida della regola nel nostro paese sappiamo i tassi impressionanti di obiettori Molise è famoso con il suo 94% ma la civilissima Bolzano ne porta l'85 nei suoi medici ginecologi che costituiscono a tutti effetti un territorio a macchia di leopardo nel quale i diritti delle donne non sono equanimamente garantiti e si parla addirittura Flamini nostro presidente onorario mi permetto di citarlo parla spesso di turismo abortivo ecco questa è una situazione a tutt'oggi inaccettabile appunto come dicevo la cosa ancora più inaccettabile è che questa legislazione non solo sia continuamente sotto attacco ma sia anche dal punto di vista normativa sfaldata si cerchi quindi di sfaldarla più o meno direttamente e più senza il quanto meno il doveroso percorso che dovrebbe essere come minimo parlamentare il caso di cui oggi discutiamo è esattamente uno di questi mi sembra doveroso ricordare come è stato sottolineato prima di me sia dalla dottoressa Pompili sia dalla dottoressa Parachini nessuno qui ce l'ha col campus biomedico ma d'altronde persino noi come UAR non ce l'abbiamo con la chiesa noi ce l'abbiamo con le istituzioni perché noi alle istituzioni di un paese che si definisce democratico, civile, laico quantomeno dal 1984 non abbiamo una religione di stato ecco noi pretendiamo che le istituzioni garantiscano equanimamente la libertà di scelta delle cittadine e dei cittadini e pretendiamo che non sia il creatore a guidare la diciamo eticità e la deontologia di un medico pubblico ma che sia appunto la normativa e la legge dello Stato che non possa essere violata per nessun tipo di confessionalismo grazie Andrea Filippi segretario nazionale della CGL medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale funzione pubblica buongiorno a tutti intanto voglio ringraziare ovviamente per l'iniziativa assolutamente fondamentale che un po' mi vergogno di non aver intrapreso io o di non aver intrapreso noi nel senso non ci eravamo accorti quando Anna mi ha parlato di questo regolamento della scuola biocampus mimatico che non conoscevo per mia ignoranza ho immediatamente aderito e se oggi sono qui io non è perché non ci sia tutta la CGL ma perché stiamo parlando di formazione dei medici e quindi sono stato delegato io come categoria ma in realtà appunto come ricordavi tu questa fa parte dei valori più propri del nostro sindacato a cui abbiamo sempre aderito diciamo che ringrazio peraltro l'onorevole Quartapelle per aver sposato fortemente questa causa perché credo che sia assolutamente fondamentale io non ho ben capito veramente non riesco a contestualizzare cioè di cosa esattamente stiamo parlando stiamo parlando di buonsenso stiamo parlando del rispetto della legge stiamo parlando di una situazione in cui lo Stato ricordiamolo è garante della tutela della salute dei cittadini e le scuole esercitano questa garanzia nella formazione dei medici ma direi di tutti gli operatori sanitari allora nel momento in cui lo Stato accredita una scuola illegale perché evidentemente una scuola che trasgredisce la legge o che induce a trasgredire la legge è illegale al di là dell'obbiazione perché qui si formano professionisti solo esclusivamente se dicono prima di essere obiettori e quindi evidentemente si mina il cardine che è appunto la laicità nella formazione degli operatori sanitari evidentemente lo Stato in una situazione del genere o è illegale e so stesso oppure dobbiamo pensare che sia commissariato dal Vaticano non possiamo pensarla diversamente voglio ricordare e quindi mi rivolgo ai ministeri in questo caso evidentemente voglio ricordare che non più di un anno fa il Papa l'ottimo Papa che abbiamo oggi diceva, si esprimeva dicendo che l'aborto è un omicidio e chi lo fa praticare è un sicario io intervenni fortissimamente su questo proprio perché mi sentì accusato come medico e come rappresentante dei medici della CGL mi sentì accusato di essere un sicario allora evidentemente noi queste operazioni non le possiamo accettare non le possiamo accettare da chi che sia ed evidentemente davvero nella nostra professione noi siamo fortissimamente condizionati e qui vengo al punto il punto appunto è credo che dovremo prima o poi affrontarlo con una legge anche in riferimento al dibattito che si è aperto per fortuna grazie alla sentenza sul fine vita il tema centrale è l'obiezione di coscienza l'obiezione di coscienza sul quale dobbiamo essere consapevoli dircelo, raccontarcelo io la soluzione non ce l'ho ma dobbiamo dirci che è chiaramente un'ipocrisia è un'ipocrisia sulla quale appunto i professionisti inevitabilmente sono condizionati nella loro attività e io ci tengo fermamente a questo dibattito nel rivendicare i valori del nostro sindacato perché noi oggi ci dobbiamo come dire porre il problema più generale della deontologia e dell'etica dei medici che nella misura in cui non trova più il terreno unico necessario per operare per la salute dei cittadini e cioè la laicità evidentemente inevitabilmente viene messa in discussione sia la deontologia che l'etica io oltre ad essere rappresentante della CGL Medici sono anche uno psichiatra purtroppo aggiungo nel senso che siamo siamo martoriati appunto anche noi da come dire un po' il degrado che abbiamo vissuto dal 1978 in poi il grande anno in cui ci sono state tantissime leggi fondamentali e in riferimento a questo forse sottolineerei di come poi oggi forse quelle leggi non so se riuscirebbero a passare ricordiamocelo non credo che riuscirebbero a passare appunto però la questione dell'obiezione di coscienza riguarda anche noi riguarda anche noi psichiatri lo sapete che noi veniamo chiamati sì lo sapete tutti ovviamente ma lo dico ovviamente ai giornalisti noi veniamo chiamati per certificare lo stato di salute psicofisica di una donna nel proseguio di una gravidanza magari per una gravidanza di un bambino di un feto anencefalico bambino senza cervello e ci sono alcuni di noi trasgredendo la legge che rivendicano l'obiezione di coscienza che non vanno a certificare lo stato di come dire di rischio per la salute psicofisica della paziente io quando lavoravo nella asda di Viterbo ero l'unico che veniva chiamato perché sapevano che con me io ci andavo allora evidentemente il tema è proprio ampio secondo me non rientra più neanche nella questione delle convinzioni religiose è una questione di condizionamenti è una questione di carriere è una questione che purtroppo oggi chi fa chi non è obiettore inevitabilmente trova la propria carriera poi ce lo racconta trova le proprie carriere bloccate perché ovviamente può fare solo quello per il tempo e poi oltretutto ovviamente viene martoriato mortificato continuamente evidentemente da primari che sono anch'essi commissariati io ringrazio moltissimo la dottoressa Pompili Mirella Paracchini dell'associazione Coscioni l'associazione Amica Adele Orioli Andrea Filippi Filomena Gallo quando ho sentito Anna e mi ha spiegato brevemente questa situazione ho pensato che fosse insomma non solo doveroso ospitare questo momento informativo qui alla Camera ma procedere anche con un atto parlamentare nel senso che un conto sono le associazioni che aiutano tutti quanti noi a prestare attenzione a come viene applicata o disapplicata la 194 un conto e poi il lavoro istituzionale che si può fare quindi abbiamo preparato con vari colleghi c'è qui Rossella Muroni ma ci sono appunto Laura Boldrini Riccardo Maggi Chiara Gribaudo Patrizia Persipino Paola Dejana che sono alcune delle colleghe che hanno manifestato interesse hanno firmato stanno firmando in questo momento un'interrogazione al Ministro dell'Università e della Ricerca Manfredi e al Ministro della Salute Roberto Speranza un'interrogazione per chiedere esattamente quali informazioni si hanno sullo stato dell'insegnamento e sul curriculum insegnato al Campus Biomedico e poi più in generale appunto quali sono i criteri e i requisiti per accreditare le varie scuole di specializzazione e infine se necessario come il Ministro della Salute intende agire nei confronti del Campus Biomedico nel caso in cui il Campus Biomedico non applichi pienamente la 194 anche qui la nostra interrogazione è stata fatta partendo da alcuni dati di fatto un dato di fatto più di carattere generale e cioè che la legge esiste non sappiamo se oggi verrebbe approvata ma c'è una legge che è la 194 e che va applicata pienamente e si deve cercare il più possibile di aiutare a evidenziare tutti quei casi in cui non viene applicata pienamente e rafforzare i meccanismi che ne stimolano e ne richiedono la piena applicazione la seconda ragione per la quale abbiamo presentato questa interrogazione appunto non è contro qualcuno o contro qualcosa ma è a difesa del diritto da un lato alla formazione completa degli specializzanti perché chiunque può diciamo a seconda della graduatoria può essere inviato al Campus Biomedico e quindi non è giusto che diciamo delle scelte individuali che poi ciascun specializzando ciascun medico può compiere secondo quanto previsto dalla legge non è giusto però che questo esuli da un diritto e di un dovere di formazione completa di ciascuno degli specializzanti e dall'altro lato il tema del diritto alla salute delle donne la 194 è una legge per il diritto alla salute delle donne e far rispettare pienamente la 194 vuol dire tutelare completamente il diritto alla salute delle donne che devono avere di fronte a sé devono avere la garanzia che di fronte a sé hanno un medico che sa fare tutto il possibile per salvare la loro vita prima di tutto perché la 194 è una legge per la salute prima di tutto è una legge per la libertà e per la salute per la libertà delle donne e per la libertà dei medici quindi questo è un po' il senso dell'interrogazione abbiamo già fatto un lavoro insomma con le segreterie dei ministri per informarli per chiedere che insomma abbiamo una risposta rapida a questa interrogazione appena arriverà ve la giriamo perché appunto in Italia noi molto spesso facciamo tante leggi ci diamo da fare in modo anche un po' scomposto le leggi ci sono tendenzialmente il problema è poi di cercare di farle applicare e uno dei ruoli del Parlamento è proprio questo di cercare di capire come si di monitorare come il governo lavora per l'applicazione di leggi esistenti appunto non leggi fatte due anni fa ma fatte ormai 40 anni fa praticamente quindi soprattutto all'interno di un quadro che veniva ricordato prima che è un quadro internazionale di regressione sul tema della salute riproduttiva e dei diritti delle donne è importante invece che l'Italia cerchi di presidiare l'ultimo punto siamo state con Laura Boldrini a novembre alla conferenza di Nairobi sulla popolazione e lo sviluppo ed è stato molto significativo assistere sia al dibattito dentro la conferenza che soprattutto a quello che è avvenuto intorno alla conferenza e in particolare alla presenza di gruppi anti-abortisti tendenzialmente americani che hanno strumentalizzato invece la posizione locale più diciamo delle chiese locali con anche promesse di finanziamenti con una presenza molto pesante molto invasiva di un dibattito internazionale sovranista regressivo contro i diritti delle donne è importante che l'Italia in quei forum sia presente presidi ancora una volta una posizione che non è contro qualcuno ma è a favore dei diritti delle donne a favore del diritto alla salute a favore della scelta e a favore anche della salute dei bambini perché insomma questa è la posizione che noi dovremmo tenere contro ogni oscurantismo e ogni desiderio di regressione che si sta molto diffondendo e che sta anche travalicando alcuni ambienti culturali e geografici precisi ma sta cercando di fare un'offensiva globale insomma io ho trovato significativo che in Kenya dove ci sono tantissimi problemi di salute materno e infantile ci fosse una presenza molto organizzata e molto finanziata sul tema dell'aborto quando i problemi insomma delle maternità e dell'infanzia in Kenya cioè se si devono spendere dei soldi in Kenya per la salute si possono spendere a tutela delle mamme e a tutela dei bambini non a tutela di un'ideologia che è molto importata e che diciamo non serve a nessuno in questo io credo che la posizione dell'Italia debba essere una posizione schietta sincera ferma sulle leggi che ci sono in Italia e sulle posizioni che l'Italia ha sempre tenuto a livello internazionale grazie io volevo solo aggiungere due cose per dovere una e cioè che erroneamente per un malinteso era stato annunciato alla presenza di Laura Boldrini per colpa mia me ne assumo tutta la la responsabilità in realtà è impegnata in un processo che la vede per le sue iniziative contro la violenza sulla rete quindi mi scuso con lei ancora una volta di aver dato questa notizia e concluderei dicendo che abbiamo notizia anche di una simile interrogazione che verrà presentata da Emma Bonino al Senato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti